in campo per il match di ritorno contro la squadra bielorussa del Soligorsk. Ricordiamo che in trasferta la Sir aveva battuto gli avversari. L'appuntamento al Palevangelisti è fissato appunto per domenica alle ore 18. Vediamo. Missione compiuta a mercoledì scorso a Minsk in Bielorussia da parte della Sir Perugia vittoriosa per 3-1 nella gara di andata dei preliminari di Champions League. Adesso non bisogna abbassare la guardia in vista della gara di ritorno domenica alle 18 al Palevangelisti. I bianconeri hanno imparato la lezione dopo aver concesso il primo set agli avversari, poi la grande reazione che ha portato al successo. Adesso basteranno due set per accedere alla fase a gironi della Champions League. La differenza è che si giocherà questa volta al Palevangelisti con il sostegno del pubblico di casa. Il tecnico Bernardi vuole vedere però una squadra più agguerrita e determinata, pronta a far sua la partita fin dalle prime battute. Insomma, c'è sicuramente uno spettacolo a attendere i tifosi della Sir Perugia, grazie alla grande atmosfera della Champions League, in cui quest'anno i Block Devils vogliono arrivare fino in fondo come l'anno scorso e magari centrare l'obiettivo. Intanto è stata rinviata la gara di Superlega della settima giornata contro Trento che verrà recuperata mercoledì prossimo.